Ben ritrovati con questo nuovo video nel quale vi voglio parlare di una particolarità che forse non sempre viene considerata perché si usa il proprio sistema operativo e non ci si bada più di tanto, ma in realtà facendo un po' i pignoli per così dire ci si accorge che non tutte le interfacce grafiche di utilizzo del nostro sistema operativo, dicevo non tutte le interfacce grafiche sono coerenti allo stesso livello. Nel caso specifico vi mostrerò fra poco come per esempio un'interfaccia grafica Linux come può essere quella di Ubuntu o anche di altre ovviamente distribuzioni sono molto più coerenti che non l'interfaccia di Windows. Nello specifico ho messo qui due punti proprio ripeto per voler andare a prendere il pelino nell'uovo, diciamo che se già pensiamo al pulsante Start, quello di Windows per intenderci che per decenni ci ha accompagnati, adesso con Windows 8 non si capisce bene se c'è ancora o non c'è più, comunque il comando Start, quello in basso a sinistra per intenderci, include anche i comandi per lo Stop in realtà, cioè questo è un esempio di incoerenza, immagino che visto che per decenni tutti hanno o abbiamo usato Windows senza interessarci più di tanto di questo piccolo dettaglio, comunque fatto sta che concettualmente noi andiamo a prendere il comando Start con la parola Start che vuol dire inizia, parti, fa iniziare qualcosa in realtà per poi chiudere e spegnere, quindi c'è un'incoerenza di fondo, di concetto. Meglio sarebbe stato avere un menu separato per esempio per spegnere il PC, però è sempre stato così. Quindi si preme Start per fare uno Stop in realtà, vabbè comunque questa è per esempio una delle incoerenze storiche, concettuali storiche del mondo Windows. Molto più recentemente, naturalmente io non usando direttamente Windows 8 non posso testimoniare per appunto esperienza diretta, però ho letto qualche articolo qua là in rete, dove, nei quali spiegano che attualmente almeno, visto che Windows 8 è appena stato rilasciato, saranno problemi di gioventù, non lo so, comunque parlano di incoerenze fra l'interfaccia Metro, che è quella nuova, nuovissima, ultima interfaccia, e diciamo il vecchio stile, ovvero il Windows come era fino a Windows 7, perché in Windows 8 c'è una modalità, un modo per ritrovarsi con il desktop vecchia maniera, chiamiamolo così, ecco. E questi articoli però parlano di alcuni problemi di convivenza fra la nuova interfaccia Metro, quella a piastrelline per intenderci, e quella, chiamiamola appunto vecchio stile. Ripeto, qui l'ho messo giusto per documentazione, per chi non ha esperienza diretta, potete cercare questi articoli in rete, dove ne parlano, chi ha già potuto toccare con mano il nuovo sistema operativo di casa Microsoft, e a quanto pare qualche problemino c'è per chi vuole usare Windows, diciamo, in vecchia maniera, piuttosto che con la nuova interfaccia, qualche problemino se lo trova di fronte, ecco. Però passiamo proprio al tema principale del video, ecco, a parte questi due punti un po' così, più tra il concettuale e il filosofico, andiamo proprio in concreto a vedere cosa intendo con coerenza o rispettivamente incoerenza delle interfacce Windows rispetto a quelle Linux, per esempio. Ecco, l'esempio, come dico qui, eclatante delle scorciatoie da tastiera, che sono, le scorciatoie da tastiera, sono, diciamo, molto sfruttate per velocizzare il nostro lavoro, la tastiera, ecco. Le interfacce grafiche, in quanto tali, non sono proprio famose per la loro velocità di esecuzione, perché bisogna spostarsi con il mouse, cliccare di qui, menu, su, giù, per fortuna che ad accorciare alcune operazioni, a velocizzare alcune operazioni, ci sono, sono state inventate le cosiddette scorciatoie da tastiera, o in inglese, shortcuts, ecco. Qui non ho messe solo alcune, le più note, fra quelle più usate, ecco, non sono andato a cercare chissà quale scorciatoie che non usa mai nessuno, ma quelle abbastanza frequenti, tipo CTRL più S, premendo CTRL più S, in Ubuntu, quindi in ambiente Linux, anche in alte distribuzioni, CTRL S indica, ovvero avvia l'operazione di salvataggio di un file, di un'immagine, di un documento, insomma. In Windows non è detto, può esserci anche SHIFT più F12, assieme naturalmente al CTRL più S per eventuali programmi open source portati anche in ambito Windows, tipo qualche editor di testo, tipo LibreOffice stesso, portato e usato sotto Windows, si porta, si trascina dietro, gli shortcut coerenti, le scorciatoie da tastiera coerenti con l'ambito Linux, naturalmente questi programmi se le portano con loro. Ed ecco che iniziano i pasticci in Windows, perché sotto Windows alcuni programmi richiedono, usano, hanno impostato, la scorciatoia da tastiera SHIFT più F12, altri CTRL più S, e qui non si sa mai, poi quando si lavora velocemente, PC abituati a una certa scorciatoia, magari ci si trova in difficoltà e si perde ancora più tempo, perché se ne usa una ma non è quella, allora si deve usare l'altra e via dicendo. Stesso discorso con CTRL più A in ambito Ubuntu, quindi ripeto, piattaforma ambito Linux, in ambito Ubuntu CTRL più A vuol dire seleziona tutto, un po' dappertutto, voglio dire in un editor di testo, in LibreOffice, nel file manager Nautilus per selezionare tutti i file, eccetera eccetera, sempre CTRL più A. In Windows, ancora una volta non è detto, può esserci il CTRL più 5, quindi CTRL e il 5, credo del tastierino numerico, non so se il 5 è normale, non mi ricordo, comunque CTRL più 5 che può voler dire selezionami tutto, così come ovviamente il CTRL più A portato da altri programmi che usano queste altre scorciatoie da tastiera, e qui di nuovo pasticci perché non si sa mai quale è valido nel momento in cui si sta usando un certo programma. Altro esempio, CTRL più F che vuol dire cercare Ubuntu, quindi se ci cerca un file, se si cerca del testo dentro un documento, CTRL più F avvia il dialogo di ricerca o comunque una ricerca. Le scorciatoie da tastiera, diciamo in ambito Linux, di solito si riferiscono alla disposizione base in inglese, quindi di solito gli shortcut, le scorciatoie da tastiera, la lettera si riferisce al termine inglese di cosa è l'operazione, per esempio CTRL S, S sta per save, A per all, tutto, F per find, quindi per trovare, per andare a cercare le cose. Visto che il search in inglese è già occupato la S dal save, hanno scelto di usare la F come trovare, ecco, CTRL più F, giusto per dire da dove derivano queste lettere, che non sono scelte sempre a caso, non sono scelte obbligate, magari perché le lettere sono già occupate, ma spesso sono termini inglesi che vengono associati agli shortcut. Quindi ovviamente gli anglofoni sono favoriti nel memorizzare gli shortcut, però quando si sa che quel scorciatoie da tastiera fa qualcosa in tutto il vostro desktop, in tutto il vostro ambiente, non è difficile memorizzare, che so, CTRL più S, anche voi che parlate italiano per dire anche noi, per noi non è difficile poi, si usa sempre CTRL S e lo si memorizza velocemente. Dunque, dicevo, altro esempio, CTRL più F, cerca, cioè trova, in Ubuntu, e in Windows, ancora una volta, può esserci l'opzione SHIFT più F5, oppure di nuovo il CTRL F portato da altri programmi. Ecco, quindi vedete che questa mescolanza di differenti scorciatoie da tastiera porta dei problemi di incoerenza e quindi di difficoltà di utilizzo pratico in Windows, laddove invece in ambito Linux Ubuntu non c'è. Ecco. E queste incoerenze, naturalmente, fanno mattire un po' chi è costretto ad usare più sistemi operativi. Non so, come chi deve usare Windows in ufficio e può usare Ubuntu a casa, per dire, si ritrova poi a dover, come dire, spegnere il proprio cervello e accenderlo a seconda, la propria tabella degli shortcut, a seconda di dove si trova a lavorare. Ecco, e quindi un po', ecco, capite, insomma, avete capito cosa intendo per difficoltà che portano a queste incoerenze nell'interfaccia. Facciamo un passo avanti e concentriamoci proprio, per esempio, tanto per concludere con un bel esempio, concentriamoci su Microsoft Office, che è la suite di programmi per ufficio, per eccellenza, legate a Windows. No, Windows e Office sono fratelli gemelli, nel senso che sono sempre legati molto strettamente uno all'altro. Quindi Office è la punta di diamante software di Microsoft. Eppure, proprio lì, proprio qui, si trova il colmo dell'incoerenza, ecco, per dire, dell'interfaccia. Le scocciatoie da tastiera, soprattutto nei programmi Office, dove le segretarie professionali, per dire, o chi usa professionalmente Office, sfrutterà tantissimo le scocciatoie da tastiera per velocizzare il suo lavoro, perché chi usa proprio tutti i giorni i prodotti Office, insomma, come si dice, è molto allenato ad usare le scocciatoie da tastiera, appunto per velocizzare, non come l'utente occasionale che magari, senza magari, si affida ai menu perché non ha presente nella sua mente con quale scorciatoie si fa la tale operazione, ma l'utilizzatore frequente, professionale, lo sa e come. Quindi si affida molto alle scocciatoie da tastiera. Ebbene, pensate un po', a seconda della lingua in cui installate Office, ovvero in cui usate sul vostro PC, che sia italiano, francese, giapponese, inglese, eccetera, eccetera, a seconda della lingua, Office presenta delle scorciatoie diverse, e questa è veramente la cosa peggiore che Microsoft potesse fare. Quindi non c'è uniformità nelle scorciatoie da tastiera sotto Office, ma a seconda della lingua possono cambiare, uno più scorciatoie, e questo potete immaginarvi, un utilizzatore professionista di Office, professionale, frequente, ha in mente, fisso nella sua mente, le sue scorciatoie, potete immaginarvi cosa succede qualora, che ne so, andasse a lavorare in un altro paese, straniero di un'altra lingua, andasse in ufficio e iniziasse a usare l'Office in quella lingua. Un disastro, ovviamente. Ecco, vi mostro gli esempi, per esempio, con queste quattro scorciatoie che sono molto usate. Selezionare tutto, il grassetto, il corsivo italico, insomma per scrivere inclinato, come è inclinato qui adesso la scrittura, e il sottolineato. Questi sono probabilmente i comandi più usati per formattare in modo semplice il proprio testo. Ecco. Allora, qui ho alcuni link che poi posso eventualmente lasciarvi in descrizione per vostra documentazione, e vi mostro appunto nelle varie lingue come cambiano, come possono cambiare queste scorciatoie in ambito Office. Allora, partiamo dall'inglese, che è quello base, diciamo sempre di riferimento, e l'inglese, come ci possiamo aspettare, rispetta le scorciatoie un po' che ho già citato qua sopra. Vediamo, per esempio, selezionare tutto, in inglese è Ctrl più A, seleziona tutto. Il grassetto, Ctrl più B, bold, quindi grassetto. Scorciatoie standard in tutto l'ambito Linux. Corsivo, o italico, che dir si voglia, è I, italic, eccolo qua, Ctrl più I. E il sottolineato, quindi l'underline, ci aspettiamo la U, eccola qua, Ctrl, underline. Ecco. Queste quattro scorciatoie che vi ho appena citato, sono quelle standard in tutto l'ambito Linux, Libre Office compreso, ecco qui l'avevo aperto, per esempio, vedete, in Libre Office, qualsiasi lingua, in qualsiasi lingua voi usate Libre Office, che sia italiano, che sia indiano, che sia inglese, avrete sempre queste scorciatoie standard mantenute dall'inglese, quindi Ctrl più B, anche in italiano, Libre Office, per fare il grassetto è Ctrl più B, Ctrl U, sottolineato, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi abbiamo visto in inglese, tranquilli, sono quelle previste. Andiamo un passo avanti, guardiamo quello in italiano, nella nostra lingua. Scorciatoie, per esempio, seleziona tutto, possiamo vedere che c'è un Ctrl più 5. Bah, Ctrl più 5, vabbè, completamente diverso dal Ctrl più A. Oppure, vediamo un po' se trovo il grassetto corsivo, formattazione carattere, eccolo qua, il grassetto, Ctrl G, è vero che il G è la G di grassetto e quindi a prima vista aiuta, noi che parliamo italiano, a tenere presente la scorciatoia. Grassetto, Ctrl G, facile, però ripeto, siccome Microsoft Office è un prodotto usato in tutto il mondo e le scorciatoie sono adeguate alle lingue del mondo, crea soltanto casini. Se tenessero, come in Libre Office, le scorciatoie sempre uguali, chiunque si trovi in qualunque parte del mondo potrebbe usare tranquillamente su Libre Office, indipendentemente dalla lingua, perché il Ctrl B, Bold, sarebbe grassetto dappertutto, invece qui no, in italiano, per esempio, diventa già Ctrl G. Quindi, una nostra ipotetica segretaria inglese che andasse in Italia per un periodo di lavoro, che ne so, o una studentessa per lo scambio, o uno studente per lo scambio fra studenti, che non so, poi uguale, fate voi, chissà quante volte premerà Ctrl B per fare il grassetto e non succede nulla, perché è Ctrl G su un PC italiano, ecco, vedete un po' voi. Sottolineato, ecco, Ctrl più S, laddove in tutto il resto del mondo il Ctrl più S è il Save, if salva, in italiano, il Ctrl più S è per la S sottolineato, pensate un po' voi. Poi, il corsivo Ctrl I, almeno questo coincide con la I del shortcut della scorciatoia inglese, va bene, e poi c'è il sottolineato, che non so se lo vedo qua, non sottolinea solo parole, sottolineato, ah sì, Ctrl S l'abbiamo visto prima, abbiamo detto il corsivo Ctrl I, mancava qualcosa, il grassetto l'ho detto, no, penso che l'ho detto tutti. Ecco, vedete che in italiano già variano diverse scorciatoie, proprio fra queste e di quelle più utilizzate. Altro passo avanti, tanto per vedere altre due lingue importanti europee, francese e tedesco, rispettivamente, è un po' in francese, et voilà, le francese, selezionare tutto il documento, e qui coincide Ctrl A con quello inglese, bene, andiamo avanti, vediamo il grassetto corsivo e sottolineato, dunque il gras, grassetto, è Ctrl G come in italiano, e qui già varia dallo standard, tra virgolette, inglese. Il corsivo italico, italic, è Ctrl I, e questo coincide, mentre sottolineato, sottolineato, e Ctrl U come in inglese. Diciamo che il francese, tutto sommato, è quello che si avvicina di più a parte il grassetto, il gras, è quello che si avvicina di più allo standard inglese. Non male, però varia anche lui, almeno in una delle scorciatoie. In tedesco, vediamo un po', qui in questa pagina non c'è il seleziona tutto, però vi dico che in tedesco è comunque Ctrl più A, quindi coincide con lo standard inglese. Il grassetto è il FET, quindi addirittura, Ctrl, ecco qui in tedesco S, T, R, G e poi il tasto Ctrl, e quindi FET vuol dire grasso, grassetto, formattare in grassetto il carattere, è Ctrl più F addirittura. Quindi in tedesco, in italiano Ctrl G, in francese Ctrl G, in inglese Ctrl B, in tedesco Ctrl F. Ecco, il corsivo italico, il cursif, eccolo qua, cursif, K addirittura, tutta un'altra lettera, Ctrl più K. Il sottolineato, beh almeno questo, un terstreichen, perché anche in tedesco inizia con la U, come in inglese, quindi Ctrl più U. Ecco, avete visto insomma quanto sia incoerente l'interfaccia Windows in generale, e con Office che è proprio il suo prodotto principe, ecco. In LibreOffice appunto ho detto invece che rimane coerente con le scorciatoie inglesi, quindi con tutto il resto del vostro desktop, e questo è molto importante, quindi anche in Ubuntu voi troverete che se aprite G-Edit come editor di testo normale, se aprite LibreOffice, se aprite il File Manager, troverete sempre le stesse scorciatoie per fare le stesse operazioni. Naturalmente contestualmente, che ne so, nell'editor di testo o in LibreOffice, premete Ctrl più A, vi seleziona tutto il contenuto del documento, e nel File Manager, Ctrl più A, vi seleziona tutte le cartelle, tutti i file, ovviamente contestualizzando la scorciatoia farà l'operazione relativa, però il concetto è sempre quello, Ctrl più A vuol dire seleziona tutto, indipendentemente da dove vi trovate, ecco. Mentre in Windows così purtroppo non è. Ecco, e io penso che non sempre ci si bada a queste cose, che è talmente abituato a magari usare Windows è solo quello, non ci si rende conto che si sta usando in realtà un prodotto incoerente. Ecco, questo è tutto anche per questo video, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, un saluto, ciao ciao e alla prossima!